It's time No, non in mare, ma è handicappato Ok, sta tornando fuori Ok, mistero, mistero È lag o Ha i poteri di Superman? Sì, sì, Peppe sta volando Vedi bene, vedi No, Peppe, sto facendo il video Ma che lo vedi su YouTube? Chiunque sta Di là si deve togliere Perché sta arrivando sotto potenza questo Oddio, sto volando I believe I can fly Nella macchina di Harry Potter ci sono io, Angelo, ti ho detto tutto Aspetta Adesso Ho, 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 ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho! Chiunque Amore Zunque E l'amore Amore Quella con te ce l'ha Peppe, scappa Peppe, ti conviene No, si è tova, ut, ut Vado Vado, questo vuole prendere sotto al giallo Go to Peppe DJ Oh, c'è Angelo Angelo, si, sali, 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 Angelo, sali Welcome to the party No, Angelo, non uscire, guarda, guarda, guarda che cacchio è che conviene Manneggia la peste, a peste esce Ma non so se parla quello, comunque devi averlo ricordato Peppe, visto che tu sei il DJ, metti qualche musica Eh, quello è sul computer No, sta prendendo la rincorsa, raga, guarda che cacchio combina Oddio Ma non è che noi stiamo dalla parte degli hacker Salute Guarda, 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 ci siamo teletrasportati Goku non è niente in confronto a questo qui Guarda, guarda, guarda No, Peppe, ci conviene stare con lui, fidati Oh, guarda Oh, guarda, guarda Oh, guarda come si vedono i neon, sono bellissimi it's time to mal di testa angelo digli come another another explosion one more one time one more I will dance we'll try the English the tele-transport I said that Goku is nothing to do with this Grandissimo Amazing This is fucking awesome Vabbè basta Non per il copy Non per il copy Non per il copy Aspetta raga Ah ma Yagami era il nostro amico Sì sì lol Era Antonio scommetto Sì no Non ce l'aveva più calcio Non abbiamo cercato proprio Abbiamo qualcosa di meglio da fare What? Ah 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 Io voglio rimanere a vita con questo Qua in questa macchina Anche se non si fai niente Ah 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 Oh Ah Come parla lui Non parla nessuno Esri entrato Antonio Scusate, andate più veloce a Yagami, perché è molto caldo. Chi è che sta uccidendo un cuccioletto? C Collaborato, ha fatto unairesa per serata. jump 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 again jump again jump again boom headshot bitch sento ecco chi è che fai no secondo me questa adesso farà bomba atomica che sta volando un altro massimo esplosio come on volare oh che dite ci buttiamo guardate la mappa guardate la mappa guardate la mappa che cagliare wait no 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 oh It's awesome man, it's funny Angelo io sono finito in acqua Ok, sono morto Madone, madone tete tete Vabbè io direi di mirar qua